E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara per la ventilazione meccanica controllata delle scuole del quartiere Tamburi del valore di circa 3 milioni e mezzo di euro. I plessi scolastici oggetto di intervento sono la scuola primaria e la scuola media inferiore Giusti, la scuola dell'infanzia primaria Gian Battista Vico, la scuola dell'infanzia primaria media inferiore Gabelli, la scuola dell'infanzia scuola primaria Grazia De Ledda e la scuola primaria media inferiore Ugo De Carolis. Grazie all'intervento verrà assicurata un'adeguata ventilazione con ricambi d'aria negli ambienti scolastici. Per gli edifici sono previsti l'installazione di impianti di ventilazione artificiale e filtrazione d'aria con il conseguente miglioramento della vivibilità e della qualità dell'aria all'interno delle scuole, garantendo la tutela della salute degli studenti, dei docenti e del personale in servizio presso gli istituti del quartiere Tamburi. La zona oggetto degli interventi rientra nell'area di elevato rischio di crisi ambientali di Taranto, pianificata in corso di realizzazione del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Il commissario straordinario ha realizzato la progettazione dell'intervento di ventilazione meccanica controllata che prevede l'installazione di idonee apparecchiature dotate di sistemi di filtrazione in grado di trattenere le polveri sottili, nonché di filtro elettrostatico per le polveri di ferro. Eseguita la gara d'appalto, saranno affidati i lavori e messi in opera secondo un cronoprogramma che prevede tempi di realizzazione di 90 giorni dall'affidamento. Questa operazione, ha detto Vera Corbelli, commissario straordinario per la bonifica di Taranto, interviene su una delle criticità più forti dell'area garantendo a studenti e docenti una scuola più sicura e più salubre. Si aggiunge così un altro importante tassello alle azioni già realizzate per le scuole per la qualità dell'edificio e di supporto alla diffusione della cultura ambientale.